Benvenuti tanto pop che vi farà finisciuta e oggi siamo tornati sul nostro amatissimo FIFA questa volta ragazzi FIFA 16 ragazzi cioè alzo le mani e seguo il mio capitano faremo footcraft ragazzi io adesso non sto giocando sto solo commentando quello che ho fatto perché io sono figo ragazzi l'ho fatto perché il video era troppo lungo visto che il video era troppo lungo ho dovuto fare tanti tagli e queste cose qua io vi dico già ragazzi la partita sarà in esperto e giocherò adesso in questa squadra che adesso vi taglierò e vi faccio vedere quindi ragazzi ecco la mia squadra ecco ragazzi questa è la mia squadra spero che vi piaccia mi deve piacere ragazzi mi deve troppo piacere vabbè ragazzi questa è la mia squadra ibramessi per questi giocatori qua schippo finché non inizia la partita manco non ricordo nessuno di garcia come arenatore questi sono i miei migliori giocatori perché non c'è ibramessi ragazzi ci vediamo alla partita ok ragazzi adesso questa è la partita anzi questo è solo l'inizio ragazzi faccio tanti tagli ovviamente ragazzi mentre faccio i tagli ovviamente non è che sto proprio zitto ragazzi parlo un po' perché devo esserci nei video quindi ragazzi adesso io finisco di parlare solo in questo momento e ragazzi ci vediamo diciamo con un po' di tagli così per ragazzi ciao ok ragazzi qui è un'azione che mi è successo guardate qui che fa William madonna mia qui si segna ragazzi era proprio William style bui ragazzi è stato davvero un gran tiro un bellissimo tiro ragazzi questa è un'azione che mi è successo con Messi qui una paratona diciamo di Courtois guardate un po' sembra che non l'ha parata ma ragazzi l'ha parata intanto che qui ci vedete anche il calcio d'angolo che credo che non è andato tanto bene vediamo un po' e diciamo sì vedete qui ci ho tirato dopo no ragazzi quindi ci vediamo nel prossimo tiro in un'approssimazione ragazzi qui c'è una caccia di punizione con Messi ragazzi cioè ragazzi non è che vuoi scusare però è andata di merda cioè è andata un po' alta la punizione qui vi faccio vedere intanto questa negozia è bianca un po' era dopo un po' alta la punizione ragazzi punizioni degli avvi punizioni punizione dell'avversario che va a tirare sul sull'angolino sotto il set però il nostro portiere la para questa volta il portiere non la può prendere sono uscito con uno stupido come vedete se vedete poi hanno aggiunto un po' 9 mosse per i portieri che su FIFA 15 non si è mai visto quindi Hazard segna di testa e 1-0 per il Chelsea ecco qui ragazzi un'altra punizione per me cioè ci ho provato tutte le punizioni stavolta ci sono andato proprio vicino ragazzi guardate qui il nostro carissimo Ibrahimovic cosa mi ha fatto pieno di Ibrahimovic palo incredibile il giocatore è stato fermo e non l'ha presa così in un scandalo ma poi ragazzi ragazzi questo è il momento che tu ti aspetta un IPRA non sbaglia mai c'è il gol di IPRA quindi 1-1 andiamo così e ragazzi qui è dove è stata la cosa più stupida del mondo che ho fatto qui ragazzi il portiere il portiere e Grazie a tutti